Quello che vedo nell'oltre e dall'oltre Mirella Brunori, Franco Grigiotti Pagina 3 Mirella Brunori Nata a Montalto di Castro Viterbo il 12 marzo 1935 Trascorre la sua infanzia a Pescia Romana Dove il padre esplica attività di controllo Nella allora grande tenuta dei principi boncompagni ludovisi Tenuta poi scorporata dalla riforma fondiaria Quarta di cinque figli Compiuti gli studi elementari Rimane presso la famiglia fino all'età di 28 anni A questa età viene a Roma Insieme alla sorella maggiore Dai genitori ormai in pensione Inizia a lavorare presso negozi di mobili E arredamento come venditrice Per poi passare definitivamente Fino quasi alla pensione Alla Salvarani Che in quei tempi Aveva diversi negozi su Roma Si alterna con le colleghe Alla direzione di questi negozi E si specializza Oltre che nell'arredamento in genere Nelle cucine in particolare Nel 1973 Conosce Franco E nel 1976 Lo sposa Dopo una vita piena di amore E di rose e speranze Queste si interrompono Al suo trasferimento in paradiso Che avviene il 23 febbraio 1997 La vita La vera vita Riprende Ma è quello che leggerete in questo E nell'altro libro Grazie a tutti